Il centrodestra tiene in Abruzzo, conquista anche dei comuni importanti e soprattutto all'Aquila è più che mai in gioco pagano per il ballottaggio. Il centrodestra è vivo, anzi più vivo di prima, anzi direi quasi che si sia rigenerato, in particolare Forza Italia esprime delle donne che in questo momento si stanno facendo valere alla grande, voglio fare due esempi di cui sono personalmente orgoglioso, Tiziana Magnacca a San Salvo, comune a doppio turno, dove da uscente rivince addirittura con oltre il 65% dei suffraggi, quindi sostanzialmente ha asfaltato tutti i suoi avversari e quindi Tiziana Magnacca rivince alla grande e Antonella Di Nino, Prato La Peligna, diventa sindaco in un feudo della sinistra. Il centrodestra quando è unito e vediamo l'Aquila, ma non solo l'Aquila, dimostra di essere in grande partita, dimostra di essere vivo, competitivo. Lei sta anche lavorando come coordinatore regionale di Forza Italia ad una cosa che sarebbe quasi clamorosa, difficile da realizzare ma non impossibile far tornare in Abruzzo il presidente Silvio Berlusconi. Per la verità ci ha tenuto a dire, sono ovviamente, ho richieste da tutta Italia, adesso vedremo se sarà possibile. Comunque la richiesta c'è stata da parte mia, io mi auguro che possa venire per sostenere Biondi fino all'ultimo voto. Io sono convinto comunque che sia Biondi all'Aquila che De Angelis ad Avezzano possano farcela. Non è stato un risultato entusiasmante quello delle ultime amministrative per il Movimento 5 Stelle? Nei comuni in cui si è votato due giorni fa, consigliere Pettinari, quali i motivi di questo risultato non esaltante? Io vedo che i dati sono completamente diversi. Ad Avezzano noi non c'eravamo e abbiamo messo un consigliere comunale. All'Aquila il Movimento 5 Stelle non esisteva e ha messo un consigliere comunale. Ad Atessa non esisteva e abbiamo messo un consigliere comunale. A Spoltore avevamo un consigliere comunale e ne abbiamo messi dentro due. A Tortoreto e a Martinsicuro non esistevamo e abbiamo messo un consigliere nei rispettivi due comuni. Quindi il Movimento 5 Stelle ieri non c'era all'interno di queste amministrazioni e oggi c'è. Questo è il dato. Poi se dobbiamo dire, l'abbiamo sempre detto, che noi ci presentiamo da soli con un'unica lista contro dieci liste in coalizione che stanno dall'altra parte, sicuramente è una competizione sleale.